Pichene Calcio! Numero 6 è Stassetti! Mattia! Ehi! Numero 5 Marco! Ciappuano! Numero 8 Birkin! Grazie! Numero 9 Andy! Frafrustato! Numero 10! Melchior! Ehi! Buateng! Numero 11! Francisco! Buatesto! Numero 14! E' Antonio! Buatestato! Numero 10! Grazie! Buatissima! Numero 20! Matti! Dicen! Numero 21! Romulo Eugenio! Buatli! Numero 28! Cristiano! Berlizzi! Come è l'ultima partita? Non c'è l'ultima partita? Siamo in partita! Non c'è il matrimonio che c'è. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.